Mi ricordo intanto domani la sfilata dei bambini e dopo la sfilata di oggi e dopo la sfilata di martedì in piazza d'Italia ci saranno degli spettacoli di fuoco e di giocoleria e dopo la sfilata dei bambini la vice di Waterloo più che un gruppo e un carro loro mi sembrano una minaccia della bella Grazie per la visione!